Profumi e sapori della bella Italia hanno deliziato occhi e palate all'apertura della 14esima edizione di Agroalimenta, ospitata nei padiglioni di Lanciano Fiera oggi e domani. Un'edizione che nonostante la crisi ha riscosso una grande partecipazione, come evidenzia il presidente del Consorzio Lancianese, Franco Ferrante. La fiera oggi cade in un momento particolare di segno positivo per il numero delle ditte, ma soprattutto perché noi stiamo riorganizzando la fiera, quindi il futuro della fiera deve passare per forza dagli imprenditori locali. E gli enti? Gli enti ci stanno vicini, sono stati come si dice sollecitate e hanno risposto. I soci, comune, regione, provincia, camera di commercio e BLS stanno facendo la loro parte e noi quindi speriamo per un futuro migliore per tutti. Tra le novità di questa edizione ci sono l'orario che si protrae fino alle 23 con degustazioni e musica e uno spazio dedicato ai più piccoli con lo spettacolo Raccontastorie, dove il personaggio, mangiallo fuoco, racconta la favola di Pinocchio e presenta l'intramontabile e insostituibile burattino di legno. Grazie. 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 Grazie.